vedete come sale la mucillacine sopra aspetta guardate vedete come viene questa qua l'ondata di mucillaggine che sta colpendo gran parte dell'adriatico fortunatamente sta evitando di coinvolgere le spiagge del Gargano ma non ha evitato di creare problemi ai pescatori di Manfredonia Pasquale, che sta succedendo? Niente, sta succedendo che la temperatura dell'acqua è molto alta e tutti gli anni, più o meno, nello stesso periodo si verifica questa mucillaggine quest'anno purtroppo il fermo ci hanno posticipato a noi e abbiamo avuto grossi problemi per la pesca perché Manfredonia comprende il 60-70% della piccola pesca quindi siamo obbligati a lavorare da 4 a 6 mili dove la mucillaggine si è presentata di più in questo periodo Che danni crea la mucillaggine soprattutto alle reti, alle vostre reti? Ma non soltanto alle reti, crea anche danni ai motori, alle persone per la sicurezza, perché le reti si appesantiscono e i motori, abbiamo delle succhiarole sotto che si tappano e i motori vengono a rire quindi parecchie barcano subito questi danni Quindi nelle reti più fango che pesce? Esattamente, più fango che pesce e si vede in mezzo anche la sicurezza perché le reti si appesantiscono e si può spezzare un accordo o qualcosa anche se noi abbiamo cura di queste cose, per la sicurezza La temperatura dell'acqua del mare a quanto è arrivata? Mo' stiamo sui 30 gradi fino a una decina di metri sta a 30 gradi la temperatura quindi il pesce si sposta verso i fuori e ha la maggior ragione la piccola pesca è stata penalizzata più della grande pesca, diciamo rispetto agli altri compartimenti che hanno più di grande pesca Luciano Guerra è un altro pescatore della marineria di Manfredonia la mucillaggine e non solo a creare problemi quest'anno Quest'anno ci sono stati più di un problema a partire anche dal fermo posticipato in base agli altri anni che per la nostra marineria non è che sia proprio l'ideale perché nei nostri fondali dato che abbiamo fondali bassi quindi il pesce è di piccola taglia in questo periodo quindi andare a pescare fino a ferragosto non conviene converrebbe stare fermi già da un bel po' come gli altri anni dalla metà di luglio, fine luglio e poi si è aggiunto anche la mucillaggine che quest'anno ci ha stravolto completamente il nostro modo di lavorare perché si sono appesantite le reti i motori hanno sofferto a alte temperature e più noi come personale a bordo è stato rischioso lavorare in questa maniera e tant'è vero che sì e no lavoravamo uno barra due giorni settimanali e insomma è stato sofferente allora il periodo di fermo pesca dal 16 agosto al 27 settembre per voi non è l'ideale e allora che cosa chiedete affinché venga rivisto il calendario? diciamo rivisto il calendario penso che quest'anno non si possa fare più niente però per i prossimi anni almeno rivedere queste date imposte che non vanno proprio bene sarebbe l'ideale fermarsi metà luglio fine agosto primi di settembre 2-3 settembre bisogna ritornare a mare tornando alla mucillaggine causata dalle alte temperature? sicuramente tant'è vero che noi abbiamo gli scandagli che misurano le temperature dell'acqua e misurano oltre 30 gradi in acqua e sono non tanto tantissimi Nelle campagne di Ostuni i campi vengono irrigati dall'acqua domestica purificata dall'impianto di acquedotto pugliese perché per noi sostenibilità non è una parola è una pratica quotidiana grazie a tutti grazie a tutti